si bentornati sul canale oggi siamo qui con il secondo episodio di bulwark scholarship edition iniziamo subito allora eravamo rimasti che stavamo facendo appunto le missioni per conto dei secchioni allora andiamo subito fuori ok inizia dalla lezione ok siamo fuori andiamo subito a lezione così poi una volta fatta la lezione ci possiamo dedicare alle missioni vediamo cosa succede oggi qui alla bulwark academy nella caotica bulwark academy ok tutti forti di stomaco vediamo allora di sezione il corpio il più accuratamente possibile prima che termini la lezione puntatore ovvero adesso poi vediamo ok allora usa le puntine per fissare la rana al vassoio quindi una due questo qua un po me lo ricordo è un po davvero chi è deboli di stomaco non è molto carino però ma andate avanti il video nel caso siete deboli di stomaco ed ecco qua quindi usa il bistoli per fare un incisione fatto ah manca qua il tam tac tac qua ah anche qua sotto ok usa la pinzetta per spostare i lembi uno due usa le puntine per fissare i lembi di pelle tam e tac no tac usa la lente di ingrandimento per identificare il cuore vabbè il cuore è qua quindi usa il bistoli per incidere intorno al cuore incidiamo intorno al cuore mamma mia cosa fa usa la pinzetta quindi prendiamo la pinzetta prendiamo il cuore e mettiamo il cuore identificare identificare lo stomaco lo stomaco è questo qua ok tagliamo seguendo i puntini verdi qua così tac 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 ok prendiamo lo stomaco l'intestino 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 è qua quindi di nuovo tagliamo no ho fatto male il taglio bisogna toccare tutti i puntini perché altrimenti non ti segna il taglio tenendo premuto A ok tac quindi e e yes fatto promosso vediamo cosa abbiamo sblocato maglietta anatomica sblocata vabbè ok ragazzi andiamo a fare la prima missione di oggi ah allora ragazzi la missione di oggi è qui spero che vi piaccia ragazzi lo stile di editing che sto usando per questo titolo stile insomma stile libro no proprio come un documentario scolastico spero che vi piaccia lo stile il candidato ci sblocca sblocca ma si si sblocca 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 Sì, certo! Oh no! Ma no! Smutandata! Io non ho mai subito una smutandata ragazzi E' mai fatta Sì, comprandoli No! Oh! Oltre che avevo un manager di sicurezza! Oh, per favore! 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 Oh, io ho il dinero! Posso pagare! Bene! Dobbiamo fare il sicurino Va in galleria del italiano eh? Sta per cominciare Ok Andiamo, ah scusa zia, non l'ho fatto apposta Ci aspetta L'inventorium è su di sopra Andiamo su di sopra Eccoci qua Tiene il sicuro Ernest fino alla fine del discorso Va bene Benvenuti! Ok, super fionda Allora Allora Eccolo qua Pam Da qua ragazzi non è stato più complesso Basta tenere premuto Caricato E poi lasciare andare Una volta apposso Una volta apposso La mia Pam Ora sicuramente dare la mia Di qua No No Mamma A mani per un pelo A cercare Per cercare la vita A della Danna Fatto Guarda questo qua Pam Nelle gambe Sui ginocchi Pam Mamma L'ho preso Aia Ma preso Arco giuda Preso Al volo Prossimo Preso Un altro dov'è? Qua Preso Al volo Madonna sta balanciando l'uovo Qua Preso Dov'è? Qua Preso Preso Quanto parlo Preso Prossimo Preso Preso Prossimo Qua Preso Preso Dov'è? Qua Preso Prossimo Prossimo Preso 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 Madonna Preso 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 Jos valo Niente Vi Spero che Men nel naso e buonanotte che entusiasmo ok ricompensa i 10 dollari più lo sovraffionda quindi rispetto ai sacchioni P5 bene andiamo alla prossima alla prossima missione e lei è proprio qua ah ok ho messo un costume nel tuo armadio mettilo che costume? ah Halloween eh sì ragazzi perché in questo ball true faremo un anno scolastico intero quindi ci saranno anche tutte le feste quindi Halloween è la prima festa perché ovviamente è ottobre poi ci sarà Natale e così via dicendo quindi oggi facciamo la prima festa dell'anno Halloween un costume è quello lì cos'è? ma sono curato sì 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 Sì? Cursi da i pensi? Do you know what torture it is to be thinking all the time? No, of course you don't. Yeah, you're cursed. You're great. Whatever. What else is going on? Not much. Let me see. It's Halloween. All the prefects are at some party and the teachers are entertaining. I use that word loosely. The kids. No, I'd say the opportunities for fun are pretty much nil. What do you have in mind? Come on, you'll see. Ok, quindi si fa casino, ragazzi. Si fa casino. All Halloween si fa casino. Quindi trovi dei scherzi da fare. Fai qualche scherzo di studente. Calciatemi su... Ah, metti il cartello calciatemi su uno studente. Va bene. Mettiamo su questo qua. Vai. Ma dai, poveretto. Vai. Prossimo scherzo. Non so qua cos'è il vestito da pirata. Cosa vuole questo qua? Colpisci i tre studenti con le uova. Vai. Dammi le uova. Primo, secchione. Vai. Pam. Questo qua. Vai. Pam. Pam e non faccio questa qua. Voi non fatelo, ragazzi. Mamma mia. Sto portando un titolo sul canale molto, molto introduttivo, insomma. Puoi aiutami, Jimmy? È worked. Va, dammi un vulcano. Oh, molti grazie. Eh... Quindi facciamo così. È così. Ora faccio indire, guardati lo spettacolo. Quindi cosa succede? Cosa succede? Ah, ok. È esploso tutto. Buon, prossimo scherzo. Questo qua, cosa vuole? Col bici, i tre studenti con le gianette. Vabbè, ma sono cavolate, ragazzi. Dai. Almeno studente. Ah, il bullo, vai. Prossimo questo qua. Da lontano? No, da lontano non si può fare. Pam. Ok, scherzo completato. Prossimo? Non so cosa vuole. No, non so qua. Fai in modo che tre studenti si grattino. Cosa vuol dire? Polvere priginosa. Ah, ok. Quindi devo lanciarla. È questo qua. Ok. Promosso. Il grande scherzo. Il grande scherzo di spedermi è solo la notte di Halloween. Se dormi, non ti sarà più possibile completarlo. Ok, facciamolo allora, raga. Vai. Il grande scherzo. Ok, qui è l'idea. Siamo freddendo i cagli di Chad con questo rancato. Aspettiamo per lui per prendere un dump e poi... Che dà? Sono fuori qui. Qualcunque, Pete. Ok, facciamo questo, Jim. Spero di spedermi un po' di più. Siamo qui, tu piccola mutt. Ok, quindi lui deve prendere la cacca del cane. E questo qua cosa vuole? Ma... Vieni qua. Vieni qua. Attenzione. Ok. Che è schifo sta cosa. Eh, appunto. Stavo dicendo io. Fatta. Contento? Boom. E adesso? Alla sala professori. Ok, andiamo in sala professori. Tanto con la cacca in mano. Si può fare anche di qua, ragazzi, no? Penso di sì. Sì. Ok, andiamo di qua. Nella sala professori. Ecco qua, staff room. Lascia il sacchetto. Ok, tira. Tra l'alenticino. Bene. Ah, adesso lo schiaccia e schiaccia la cacca. Il costume rosso da ninja l'abbiamo sbloccato. Bene, adesso? Via, 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 via. No, 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 no. Mamma mia, che rischio. Mi rischio. No, 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 via. Ok, ragazzi. Ora, in teoria, se andiamo a dormire, teoricamente, la notte passa. Ah, ok, dormi. Vabbè, torniamo, ma raga. Ok, ragazzi, dai. Allora, ci siamo svegliati e Halloween è passato. Non è più Halloween. Ora conteneremo la classica giornata normale nel college di Bullworth Academy. Noi ci vediamo al prossimo episodio e mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere aggiornati, altrimenti non saprete quando arriveranno nuovi video. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, belli! 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 Grazie a tutti